Siete pronti? Anche oggi andiamo al carcere Napoli. Allora, chi cazzo sei tu? Petr Kliburn! Va bene. Allora, Petr Kliburn, sembra lui. Le impronte combaciano. Limbro verde anche per te. Perquisizione, non tiene nulla, sparisci. Prossimo avanti! Caro Albert, vediamo un po'. Ok, è tutto normale, le impronte digitali sono ok. Non mi sembra che ci sia nulla di particolare. Per adesso non me l'ha ancora uscito uno strano. Cosa abbiamo qua? Risotto? Minchia, va di moda sto risotto qua, eh. Che cazzo è sto libro? Una lima? Questa la prendo io. Eh sì, ho perso il rispetto di Freeman. Ce ne faremo una ragione, tieni. Parisci! Perché questo non parla adesso? Devo fare delle consegne presto, presto, presto! Consegnare dei pacchi, no ho sbagliato strada! Mannaggia ragazzi, poi me l'ha messo in culo. Guardate quanto sono lontani. Ok, tieni il pacco! Devo fare un'altra consegna a 20 secondi per arrivare là. Via, 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 via! Ok, 10 secondi, non ce la farò mai. 3, 2... Oh! Mancava un secondo, era in alto a sinistra e voi non lo vedevate, purtroppo. Non ci posso fare niente. Oddio, non l'ho ancora fatta la routine delle docce, bello. Gli ottenuti che aspetta il loro turno per fare la doccia hanno diversi livelli di pazienza. Secondo il loro carattere, aggressivo è un auto tranquillo. Le persone aggressive sono meno pazze. Ma va, non l'avrei mai detto. Allora, questo aggressivo, vai. Prima gli aggressivi. Innocuo, innocuo, aggressivo, vai. Non posso aprire la porta, peccato. Le paperelli di guf... Oddio. Oh, ok. Questi escono. Quando hai detenuto, ho fatto dolce, raccoglie l'asciugamano sporco, altrimenti ti era bloccato una cabina. E va bene, ho capito. Questo dove cazzo devo metterlo? Qua. Presto, presto! Si stanno a spazzentare questi, oh! Ma non posso metterli loro? Ah no, effettivamente. Poi fanno le cose strane, meglio di no. Tutti... Oddio. Celestino, Celestino, raga, picchia tutti, se no andiamo subito a fare la doccia. Chi manca qua? Muoviti! Cazzo c'è qua dentro. Vincenzo! A posto. Devo fare un po' di bilanciere qui. Sparisci! Sparisci! Voglio starci io qui. Così si tratte dei tenuti, ragazzi. Se volete il rispetto... La rivolta a fine si fa? E devo trattare i mali dei tenuti e si fa la rivolta, easy. Ah! Fare pesi ci sarebbe da aumentare la nostra stamina. Ok. Devo parlare con Kenneth, con il boss, per la questione di Sergio, che vi ricordate? Era sospettato d'omicidio. Il direttore. Senti, anche dice. Un inizio per te. Il tribunale ha deciso che Sergio è spoiso. Vedete una posizione più severa. Oddio. Pena di morte a Sergio. L'altra eseguazione è domani, sei tu il designato per eseguire... Dovremmo uccidere Sergio, ragazzi. Se uccidi Sergio ti giuro che non solo non ti subbo più, ma ti denuncio a Mauri. Grazie, Darbar, ma non dipende da me, purtroppo. Non ci posso fare niente. Mi dispiace, ragazzi. Dobbiamo giustizzare Sergio. Povero Sergio. Cioè, come è passata la frode su internet di aver ammazzato una persona? Dai, ti concedo l'ultima cagata, Sergio. Per chi mi guardi così... Scusa, Giulio, non ti guardo, è meglio. Facciamo per acquisizione a Sergio. Vabbè, tanto a te non servirà più. No, niente, qua... Ma, Sergio, ti devo ammazzare! Vabbè, giustamente lui dice, vabbè, o almeno lasciami l'ultima volta, dai. Ok, dai. Andiamo, Sergio, andiamo. Zitti! Poi tocca a voi! Eh, lo so. È un momento difficile anche per me, Sergio. Ultima parola di Sergio, ragazzi. So cosa cazzo sta succedendo qui, in questa topaia. Ti direi cosa sta succedendo, ma ho una famiglia a cui pensare. Perciò dipende da te, sbrigatela tu. È il mio ultimo consiglio, restane fuori. Cosa? È ora di giustiziarlo. Non ce la faccio. Lo so che siete tristi, però non ci posso fare niente. Addio, Sergio! Ehm... Non so come cazzo funzionista a fare. Addio, Sergio! Aaaaaaah! 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 Minchia. Sa che buon odore che c'è qui. Niente sa, ragazzi, non ci posso fare niente. Mi hanno costretto. Ha ucciso il suo vicino di cella. Non poteva essere perdonato. Ciao, era mollito. Che hai chiamato? Era mollito. Abbiamo un piccolo fight club qui in prigione. Guardate, non ti scontrano tra di loro. Sono dei premi in palio. Sembra onesto, ragazzi. Uff! Oddio! Ah! Proprio lui devo picchiare. Vabbè, non è durato molto. No, devo pulire, ragazzi. Ah! Sì, ma che cazzo ci han fatto qua? Una gara di paintball? Guardate cosa mi tocca fare, oh. Guarda, guarda, ma che cazzo è successo? Un omicidio qua dentro. Ma dimmi te, oh. Non mi pagano abbastanza per fare questo lavoro, comunque. Guarda qui che roba, oh, ma che cazzo. Manco una lira mi hanno dato. Un cazzo. Rumori, oddio! Vorrei una camicia. La taglia? No, la porta... Ma che cazzo sta succedendo? Devo ancora parlare con Daniel, però non so chi cazzo è Daniel. Lo scopriamo poi. Oh, sì, si monitora, si monitora. Si vede tenuti per il tempo impostato, segnala comportamenti sospetti, ok. Mi sembra tutto ok per adesso. Chat, scusate, voi cosa vedete di sospetto qua? Oh, è questo che fa? Rimproverlo! Come cazzo gli permette quello di non fare un cazzo, eh? Vai a rompere i coglioni! Eh, al fuoco, al fuoco! Vai a spegnere il fuoco, muoviti! Ma Alexander non fa un cazzo! Alexander, sta andato a fuoco tutto! Cioè, ma lui cammina con l'estintore, corri! Oh, ma c'ha il fuoco di fianco questo! Ma dove diglielo io? Che succede? E' un fintano, muoviti! Mi finì puttana, sta devastando in terra prigione! Una rivolta! Dov'è l'armadietto? Dove? Dove? Qua! Vai a fare rob da qualche altra parte! Vicky, non ci saranno più detenuti dopo oggi! Di qua c'è l'armeria se non sbaglio! Sì, ma non posso prendere un cazzo! Dai, ma un po' di realismo! Uscite! Quello sta pisciando! Vai Bobby, spara, spara! Il pelato! Questi che picchiano il muro! E' ucciso tutti ragazzi! Non abbiamo più detenuti! Tre giorni dopo! Come non fosse successo niente! Andiamo all'obitorio, vediamo cosa c'è adesso! La pila dei morti all'obitorio! Controlla il sacco! Beh! Bene! Ci vediamo a un prossimo video! Guarda il sacco al cancello! Roar! Tigrotti! Ah, così! Va bene! Sub, benvenuto! Oddio! Che succede? C'è nel prigione ma bisogna che te ne occupi! Sposta alcun luogo incidente! In fretta! Mamma mia ragazzi! Non si può stare tranquilli un attimo! Permesso! Permesso! Oh Gesù! Eccomi! Eccomi! Sono di nuovo tutti detenuti! Cazzo li ho uccisi praticamente! Ho fatto strage nella prigione! Allora Luigi! Adesso controllo qua dentro! Vediamo un po'! Ah! Se no se condino abbi pietà niente di speciale non posso vivere senza! Mo' vediamo! Hai 40 bombe! Allora così andiamo d'accordo! Ho sbloccato l'abilità che mi fa vedere se c'è qualcosa! Vedete? Tipo qua c'è qualcosa! Vincenzo ci spostiamo da qui? Spostati! E fammi vedere cosa c'è qui dentro! Aha! Cosa? Sto apprendendo io! Grazie! Vari problemi possono verificar se la mensa dall'averamento all'incendio le classiche riste agisce in modo opportuno! Io preparo il manganello di già! Che vuole questo? Un ago prima di subito? Che è interessante! Vuole un ago lui! È la madonna! A te, i martelli si portano in mensa questi Eeeh Prendo io, grazie Eh no, eh ma che cazzo Sì ma dai, il boccione d'acqua avete incendiato E poi come bevete, cretini Grazie Jason, tieni Oddio Jason, scherzavo Jason, basta, no, scherzavo Jason, vabbè Jason te la sei cercata Volevo fare pace con te Jason è grossa e resistente Jason, eh, devo cercare gli aghi Devo comprare la skill di livello 2 Per la perquisizione Cosa c'è qui dentro? Dimmi che c'è un ago, un ago Vabbè, prenderò lo stesso però Non me l'aspettavo a te Ciro Anche qua dentro c'è qualcosa Eccolo qui, questo lo prendo io, grazie La mia parte dell'acconto Eran 100 Ah, sarà meglio, figlio di puttana Ah, tieni pure le robe illegali qua dentro Voleva darmi anche meno soldi Ma guarda te Ah, il famoso ago Ecco, me lo riprendo Coglione E mo mi devi dare Altri 30 Ecco qua 130 mi sono fatto con sto ago, ragazzi Ispezione dei pa... Oh, sì L'ispezione dei pacchi, ragazzi Mi piace tanto ispezionare i pacchi Soprattutto quando trovo le canne Mmm Aha In tasca Non c'è niente Altra droga Micchia Stiamo incracciando Pablo e Scobar Qua dentro Pure questo Non c'è mai nulla in questi barattolini qua Va un cazzo questo A posto E anche i pacchi li abbiamo fatto Cosa facciamo adesso? Oddio, cosa c'è qua? Gli stisci il tempo di tenuti da scuola in attività e visita? Eeeh Sediti immediatamente Cosa? Sediti Oh, ma è sempre Ruggero, ragazzi È sempre Ruggero e fa casino Andiamo a tirare su qualche bel bilancio No, andiamo a picchiare di tenuto Oh, chi è questo? Questa è un'evasione con l'elicottero Ma... Ma sta a scappare questo Ma che è? Ma io che devo fare? Se solo avesse butogli la pistola qua Altro che Cazzo era quello Era un'elicottero Non ho potuto fare niente o nemmeno una pistola Ma che cazzo ci posso fare io? Mi hanno sgridato perché non ho fatto niente Ma... Passavolta giro con il mitra Che ti devo dire? Il rispetto è sceso Ma chissà che cazzo è successo L'ispezione dei pacchi Evviva! Mamma quanti pacchi Cosa c'è? Ma che c'è una bomba? Ma? Ma che cazzo... Oh oh Eh ma che cazzo devo fare? Ma non ce la farò mai, regà Non lo so Come cazzo è fatto sto cosa? Ma lì insomma mica ha insegnato a disinnescare bombe ragazzi Ok ce l'ho fatta Non ho capito Un attimo Non ho capito più che altro come risolverla sta cosa qua Ce l'ho fatta Non so nemmeno io come Ma che cazzo Ok Regà pure le bombe mi mandano queste Eeeh One Secondo me non ve l'aspettate Il gioco ha da offrire delle belle emozioni Devo dire Che 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 l'ha